Iniziano oggi i lavori di illuminazione in alcune strade del Veale Africa, qui siamo nella via Tucidide e siamo soddisfatti di questo risultato perché finalmente dopo tanti mesi, forse un anno di gare, siamo riusciti ad appaltare questa gara. In seguito alla via Tucidide inizieranno anche i lavori di illuminazione della via Socrate e della via Tacito. È un buon risultato che l'amministrazione Cristaldi ha raggiunto, è un obiettivo che ce l'avamo prefissati circa un anno fa e tengo che i cittadini debbano essere soddisfatti e contenti perché diamo luce a questa zona che era completamente a buio e quindi era anche oggetto di vandalismo.